Ciao a tutti ragazzi, siamo al 19 di marzo, festa di San Giuseppe e siamo con il maresciallo sulla neve per la prima volta. Andiamo piano piano perché è la prima volta che lo provo sulla neve, ha le gomme da neve, ma non ce li ho io le gomme da neve. E' mattina presto, stiamo recando al lavoro. Cavolo, è strano che al mese di marzo nevica, ma al maresciallo non gli interessa, lui va. Che è successo qua? Sono impastati. Guardate un attimo, non c'era posto milione.